Sunny Europe è un'impresa commerciale specializzata nella gestione di merci esenti da imposte che si rivolge a clienti del settore marittimo, a diplomatici e da poco tempo anche al mercato interno. Per essere in grado di competere in futuro con la crescita abbiamo deciso di investire nel nostro magazzino e di automatizzarlo. Da un processo manuale siamo passati a un processo semi-automatico utilizzando magazzini verticali automatici modula. Nel processo originale molte operazioni venivano fatte a mano, le merci venivano prelevate con le mani, controllate e imballate a mano. Adesso con il nuovo sistema tutto procede in modo molto più automatico. Una parte delle nostre merci viene immagazzinata in magazzini verticali automatici modula dai quali si possono prelevare le merci molto più velocemente e anche in modo molto più accurato. La merce consegnata dai nostri fornitori tramite camion viene ricevuta nella zona in ingresso del nostro magazzino. Gli operatori ricevono merce come sigarette, vestiti, orologi, gioielli, levande, cibo, profumi e tutti gli articoli che solitamente si trovano in un duty free o su un sito internet di e-commerce. I materiali sono destinati a diverse zone del magazzino in base a dimensioni e tipologia. I materiali voluminosi e ingombranti vengono destinati alla zona con scaffalatura a pallet manuali. Alcuni di piccole dimensioni, articoli economici e slow mover, sono portati verso gli scaffali di prelievo manuale. I restanti materiali, ad esempio articoli di dimensioni ridotte, costosi e fast mover sono indirizzati verso i modula lift. Nei modula lift sono disponibili scomparti di quattro diverse dimensioni e ciascuno di essi può contenere una determinata quantità di articoli. L'operatore di magazzino scansiona il codice a barre di ciascun articolo ricevuto e, se questo è già codificato nel sistema, riceve dal software WMS un'indicazione sulle dimensioni della scatola blu adeguata e la quantità corretta da stoccare. Successivamente mette gli articoli in un contenitore grigio, un unico codice per ciascun contenitore, che viene convogliato da un sistema di trasporto verso il modula lift. A seconda dello spazio disponibile indicato dal WMS, devono essere riforniti i cassetti del modula. Vengono prelevati gli articoli e messi in un contenitore che viene trasportato verso il modula tramite un nastro trasportatore. Modula gestisce tutti gli articoli ad alta rotazione, un deposito al magazzino di due mesi al massimo e tutti i prodotti di piccole dimensioni. Il processo in uscita è strettamente collegato ai sistemi modula lift. Questi ultimi sono sempre caricati di materiali pronti per la spedizione. Vanas Gigasoft emette la lista ordini in un formato che permette agli operatori di capire facilmente ciò che devono fare o prelevare. La suddetta lista è stampata e viene riposta dentro i contenitori. Esistono tre possibilità. Tutti gli articoli richiesti si trovano nel modula, perciò i contenitori vuoti vengono mandati agli operatori modula che si trovano nella relativa zona. Tutti gli articoli richiesti sono di notevoli dimensioni e questi colli vengono inviati direttamente nella zona di consolidamento per essere spediti. Dopo aver terminato questo processo, gli articoli sono imballati da una confezionatrice che realizza scatole su misura just in time. Le scatole complete, dopo essere state etichettate e preparate per la spedizione, sono suddivise su diversi nastri a seconda della destinazione. Con il nuovo sistema di magazzino, Sunny Europe è in grado di fornire una qualità più elevata di prima. Ogni cliente riceve la sua scatola con le merci giuste. Grazie alle conoscenze presenti all'interno del Dipartimento di Informatica di Sunny Europe, insieme a Vanas Engineering, siamo stati in grado di fare il collegamento fra il nostro sistema ERP e il software di magazzino WMS per il comando dei magazzini verticali automatici.